L'evidenza di come ci siamo più volte detti in questi giorni, che la curva ha raggiunto il suo plateau e adesso ha iniziato la discesa e fortunatamente ha iniziato la discesa anche il numero dei morti, che è un altro dato estremamente importante, che però, come sappiamo, sono eventi che hanno iniziato, hanno contratto l'infezione due settimane fa. Quindi questo vuol dire che un po' tutto il sistema sta portando a un rallentamento significativo della diffusione. Il secondo elemento mi associa a quanto ha detto dottor Borrelli, questo dato positivo, che ci aspettiamo nei prossimi giorni possa essere confermato, è un dato che però va conquistato giorno dopo giorno e quindi le misure adottate sono efficaci da questo punto di vista, ma è altrettanto importante che manteniamo questo tipo di attenzione, questo tipo di rispetto delle misure, perché sono proprio queste misure che ci aiutano a far decrescere la curva. Il terzo elemento di riflessione è che dovremo cominciare a pensare a una fase 2, come l'ha definita il Presidente del Consiglio Conte, e ovviamente questa si può pensare se questi dati si confermano, perché vuol dire cominciare a riflettere su come mantenere basso la diffusione della malattia, perché è l'unico requisito che ci consente poi di mantenere o di considerare misure o alternative necessarie alla nostra vita, ma allo stesso tempo necessarie a mantenere il numero di nuove infezioni sotto la soglia del famoso R0 uguale a 1, ma soprattutto contenerle al massimo possibile. non è impossibile. non è impossibile